E' l'ultima giornata di campionato, è una partita importantissima, il verdetto per il titolo italiano è ancora aperto, il Milan c'è, il Milan ha fatto di tutto per farcela, nelle prime 37 giornate di campionato deve confermarsi anche sul campo del Sassuolo. Colpo di testa, la parata di consigli, palla messa in mezzo da Teoteo, il colpo di testa, la deviazione sulla linea, sulla linea, sulla linea salva il Sassuolo. Leao che va a recuperare, Leao, Leao ha fatto pressing e se ne va Rafa, se ne va Rafa, se ne va Rafa, Rafa solo avanti al portiere, Rafa, palla messa in mezzo, Giroud, gol, ha segnato Olivier, Ali, 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 non te muovere mai nella vita, non te muovere mai nella vita, Leao, Giroud, gol, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Sale Meckers, limite dell'aria, sale Meckers, palla dentro, Tonali, tiro, è miracolo di consigli. Adesso c'è Leao, Leao che si inserisce alla grande, Raffaellino, Raffaellino contro Ferrari, Raffaellino se ne va che cosa ha fatto Leao ragazzi. Che gol, gol ancora Giroud, ancora Giroud, ancora Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, siamo venuti qua su, siamo venuti qua su, per vedere, segnare, Giroud, ecco lo Rade che può recuperare palla, grande Rade, grande Rade per Raffaellino Leao, Raffaellino Leao, che si, gol, abbiamo segnato ancora noi, Frank Cassini, il presidente del nostro cuore, 3-0, straripiamo, esondiamo, dobbiamo traccivare. Muldur, Muldur, tiro, para Mignon, perché ragazzi, perché? Tiro, è grande parata di Mignon che devia sul palo. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, mister, tutto meritato per il nostro allenatore, 2022 come il 2011, come il 99, come l'88. Ehi sei Milano! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti!